La postura e la dinamica posturale è stata nel nostro metodo selezionata, quindi gli allievi possono vedere step by step, come se fosse un ralenti, tutti i micromovimenti che deve fare e quindi poi allenarsi. Gli educhiamo ad avere movimenti nello spazio, li abituiamo a muoversi intorno al globo, intorno alla capigliatura. Tutto questo, seguito da un allenamento virtuale, fortifica il messaggio, aiuta a ricordarsi meglio. L'allievo in tutto questo non deve fare altro che applicarsi e seguire con poco tempo di allenamento, ma efficace. Dopodiché c'è la verifica per ogni passo. Se l'allenamento, se il movimento non è stato acquisito come non è stata acquisita totalmente la teoria, l'allievo ritorna sull'argomento.